e bentornati oggi si parla del 23 mm f1 e 4 r lm vr di fuji sostanzialmente la versione 2 del famoso 23 mm di fuji che rientra nella nuova linea di obiettivi fissi come il 18 e 33 mm con i quali condivide tantissimi aspetti dal punto di vista di costruzione e dal punto di vista di qualità ottiche ma ne parliamo in un attimo e quindi questo obiettivo ha a che fare con un'eredità pesante perché il 23 mm 1.4 il precedente modello al di là dell'autofocus che non era certo un granché è comunque uno degli obiettivi preferiti da chi scatta in fuji quindi questo nuovo 23 mm che peraltro era l'ultimo che mi rimaneva da testare nella linea dei nuovi obiettivi e che ho potuto testare grazie a costantino grazie ancora a che fare con una competizione diciamo con un background che non è facile da abbattere però siccome questo obiettivo è fuori da un po ci ho messo un pochettino a fare questa recensione non mi perderò troppo nei dettagli delle specifiche tecniche altro sono sicuro che le conoscete a memoria andiamo subito a parlare delle qualità dal punto di vista della qualità costruttiva il 23 mm come vedete qui è costruito come sapete probabilmente costruito in metallo è tutto in metallo anche a una ghiera dei diaframmi che vedete qui sentite con il blocco classico dei nuovi obiettivi e la ghiera della del manual focus che vedete qui ancora come tutti gli obiettivi nuovi di fuci a livello di dimensioni praticamente alle stesse dimensioni del 18 mm che vedete è anche lo stesso peso il 18 è un filino più lungo è un filino più larghetto il diametro dei filtri sul 58 sul 23 e 62 sul 18 ma al di là di questo sono obiettivi praticamente delle stesse dimensioni e della stessa qualità costruttiva sono stropicalizzato motori di autofocus lineari che fanno differenze enorme ma ne parliamo fra un attimo e in generale qualità costruttiva ottima come i migliori obiettivi di casa fuci dal punto di vista della qualità ottica questo obiettivo segue le orme del 18 del 33 sono obiettivi eccezionali a partire da 1.4 fn 4 quindi tutta apertura l'obiettivo si comporta benissimo è nitidissimo al centro e molto nitimo anche agli angoli miglioramenti diaframmando sono minimi soprattutto agli angoli ma al di là di questo l'obiettivo è usabilissimo già tutta apertura in tutto e per tutto l'unico miglioramento che si ha diaframmando l'obiettivo è la scomparsa della vignettatura che è un po visibile a 1.4 va via praticamente f2 8 ma al di là di questo non avete bisogno di diaframmare per ottenere il massimo un obiettivo che può essere usato tutta apertura e può essere usato tutta apertura in tutte le condizioni perché si comporta veramente veramente bene dal punto di vista dello sfocato è molto piacevole in alcuni casi diventa un po nervosetto però diciamo sono alcuni casi specifici ma per il resto è molto più piacevole si comporta bene dal punto di vista dei flare e delle ghosting si comporta bene dal punto di vista delle operazioni cromatiche che non se ne vedono è molto ben corretto dal punto di vista della distorsione ottica e in generale è un obiettivo senza difetti ora che i difetti in realtà otticamente ci siano ma vengono corretti dal punto di vista software con il profilo incorporato a me personalmente non crea alcun problema perché perché in realtà il mercato sta andando in questa direzione e soprattutto se alla fine il risultato finale è un obiettivo un'ottica che mi dà zero difetti che poi siano corretti in post me ne frega veramente meno di niente l'importante che quando poi lo uso e tutti i software di editing ormai hanno i profili incorporati perché quando lo uso il risultato finale sia quello che mi aspetto e con questo obiettivo è sempre quello che mi aspetto un obiettivo di altissima 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 qualità se devo trovargli un difetto è quello di non avere una resa ottima quando usato alla minima distanza messa a fuoco sia quella nebbiolina insomma che la rende non proprio nidissima appena ci si allontana l'obiettivo torna a essere eccellente e si scatta e si girano video alla grande senza alcun tipo di problema anche le diciamo stella effetto stella quando si chiude tanto il diaframma è piacevole anche se il 18 da questo punto di vista è più definito e più bello e ovviamente la diffrazione si fa sentire f11 f16 si fa sentire un po di più ma è anche normalissimo soprattutto sui sensori da 40 megapixel ricordo sempre che i miei testi fai su sensori da 40 non soffrire la diffrazione f11 o f16 è un buon sogno ecco oggettivamente non c'è motivo di scandalizzarsi ecco da questo punto di vista dal punto di vista il video per quanto non lo abbia usato tantissimo ovviamente invece il 18 13 le avevo stati molto di più posso dirvi che la punta del comportamento video l'obiettivo ovviamente le qualità ottiche rimangono uguali rispetto a quelle che abbiamo parlato per le foto mentre dal punto di vista video il comportamento dell'autofocus delle transizioni molto simile a quello del 18 del 33 autofocus molto preciso il tracking funziona bene le transizioni sono probabilmente le più morbide del terzetto le video mi sono sembrate più morbide rispetto agli altri obiettivi e dal punto di vista del focus breathing praticamente non ce n'è quindi otticamente diciamo otticamente dal punto di vista video in generale l'obiettivo si comporta molto molto bene e non c'è veramente nulla di cui lamentarsi fa parte della nuova linea di obiettivi fuji tra l'altro essendo tutti quanti delle stesse praticamente dimensioni il 18 33 il 23 dimensioni pesi sono facilmente indescambiabili su un gimbal senza dover ribilanciare il tutto il che rende questo terzetto di obiettivi sicuramente usabilissimi in un set l'unica cosa come tutti gli altri se avesse avuto una ghiera dei diaframmi decliccabile da poter usare in video sarebbe stata una figata assurda purtroppo non c'è e probabilmente fuji dovrà adeguarsi l'ho detto già in altri video dovrà adeguarsi a questa caratteristica perché in alcuni casi torna realmente comoda ma al di là di questo obiettivo straconsigliato anche per video ora se avete seguito il mio canale per un po sapete che il mio obiettivo preferito è il 18 mm f1.4 che vedete qui è l'obiettivo probabilmente il mio obiettivo preferito di sempre io non pensavo che l'avrei amato così tanto quando l'ho comprato ma da quando l'ho comprato non riesco a staccarlo dalla fotocamera da qualsiasi fotocamera compri quindi per il 23 andare a lottare in quello stesso diciamo ambito lì perché il 18 e 23 non sono distanti come 16 e 23 il 16 più grandangolare la differenza col 23 è abbastanza di più ma fra 18 e 23 quindi fra 27 e 35 equivalenti sì la differenza c'è ma non è drammatica parliamo sempre di un moderato grandangolo che potrebbero essere quasi intercambiabili ecco dal mio punto di vista essendo il 18 il mio obiettivo preferito il 23 va a scontrarsi contro il mio obiettivo preferito e per quanto vi abbia decantato delle lodi infinite non sono riuscito ad amare il 23 come ho amato il 18 come sto amando il 18 come ho amato il 18 da subito appena l'ho comprato è stato amore a prima vista il 23 non sono riuscito ad entrare nello stesso mood ripeto uso ormai il 18 da un anno e quindi più di un anno quindi sono stra abituato è un obiettivo che uso sempre quindi ormai mi sono faccio fatto l'occhio ecco il 23 è un obiettivo eccezionale ma non riesce a per un motivo che non riesca a spiegare tra l'altro a soppiantare dal mio cuore il 18 mm al di là di questo è probabilmente il fatto che io sia ormai non sia più un fotografo da 35 milioni di quali anni mi sono spostato fra 28 e poi i 40 perché mi piace così di un po più lungo gioca un ruolo in tutto ciò tanto che sono interessato da provare il viltrox 27 mm 1.2 ora mi direte ma 23 27 18 parli di poca differenza pippe mentali vero sono pippe mentali ma sono le mie siccome il canale il mio vi assorbite le pippe mentali mie dicevo probabilmente fosse stato un 27 l'avrei amato di più detto questo però non fatevi prendere dal da questa mia diciamo considerazione l'obiettivo è un obiettivo eccezionale un obiettivo che è migliore del 23 millimetri precedente in tutto e per tutto con l'unica eccezione che il 23 precedente aveva quel meccanismo di messa a fuoco manuale che era un gioiellino peccato che fuci l'abbia abbandonato ma le ottiche avevano quel meccanismo erano veramente un gioiellino da mettere a fuoco in manuale però al di là di questo questo obiettivo è superiore in tutto un obiettivo senza il minimo difetto ripeto per quanto mi riguarda non so pianterà il 18 ma è un obiettivo che io userei tranquillamente in ambito professionale per fare la qualsiasi non ha nel alcun tipo di difetto va bene credo di avervi detto tutto se volete lasciare qualche commento fatelo sono qua giù i commenti e ci vediamo al prossimo video ciao e alla prossima ciao